Mister Amauro, di fatto quello che la Lega Alpineto forse è un filo che non si era mai spezzato, ritorna dopo qualche mese su una panchina che conosce molto bene? Sì, i fatti sono questi, anche se è un periodo un po' di inattività, ti dà un po' l'energia in più, quella carica che serve per ripartire e per farle sempre bene, perché il mio modo di pensare è non guardarsi mai indietro per quello che uno ha fatto, ma quello che uno vorrebbe fare in avanti, questo trovare le motivazioni giuste e importante, io magari in questo periodo di inattività mi è servito anche un po' per girare, per fare un po' guardare qualche partita, qualche giocatore che magari non conoscevo e adesso sono tornato con il vantaggio che conosco un po' l'ambiente, e un po' tanti giocatori, sperando di riuscire a fare un buon lavoro come abbiamo fatto negli anni precedenti. Ritrovo una squadra che ha 27 punti in classifica, che è stata cambiata abbastanza anche durante il mercato di dicembre, che però ha ripreso dei giocatori che Daniele Amalo conosce molto bene, perché è tornato Tomassini, è tornato Marianeschi, ecco, dal di fuori questa è una squadra che, che secondo Daniele Amalo, ha espresso meno di quanto si aspettasse? Ma di solito i numeri parlano chiaro, in questo momento la classifica dice quello, i gol fatti, i gol subiti sono quelli scritti e probabilmente si può fare sempre qualcosa di meglio, proveremo a farlo perché l'organico è un organico importante, sappiamo quali sono gli obiettivi della società di fare un campionato di primissime posizioni, ci proveremo, adesso magari quello che magari se qualcosa non è stato fatto in precedenza, magari si poteva fare qualcosa di meglio, non sta a me a dire, adesso comincia questo girone di ritorno, cercheremo di affrontarlo al meglio, anche se il mio pensiero è quanto riguarda il girone di ritorno, e l'ho detto sempre negli anni passati, il campionato vero proprio se di comincia il girone di ritorno, perché adesso avete visto c'è stato il mercato, quindi non ci sono più squadre coscinetto, chi dovrà fare punti per un obiettivo come quello da salvezza o di playoff o di vittoria del campionato, ha fatto mercato e quindi ci saranno delle partite dove i risultati conterranno tantissimo, noi cerchiamo di riprendere il filo discorso prima possibile per magari guadagnare qualche posizione di classifica, per raggiungere per no meno l'obiettivo della società, quello di fare un campionato di alta classifica.